Buon Natale! Ti auguro di trascorrere queste feste con le persone a te care, di divertirti, di rilassarti e soprattutto di sorridere il più possibile, ma questo vale per tutto l'anno. Lo so che quando sorridiamo si formano le rughe intorno agli occhi, ma chi se ne frega? Non c'è cosa più bella che vedere una persona sorridere. E non fa bene solo a te, ma un bellissimo dono, un bellissimo regalo anche per chi riceve il sorriso. Quindi sorridiamo tutti di più! Ti mando un forte abbraccio e ti faccio ancora tanti tanti auguri!